Penso che dovremo giocare la nostra migliore palla a volo per avere la meglio su Verona. Una squadra che, come tutte le partecipanti a questo campionato, vuol dire molto. Sarà difficile, ma dopo la prestazione di domenica contro Civitanova abbiamo voglia di proseguire su questo trend. Siamo dispiaciuti per non aver conquistato un punto contro la Lube, ma in questi giorni abbiamo lavorato bene e puntiamo a rifarci. Credo in questa squadra e so che potrà fare delle grandi cose. Dobbiamo solo approcciarci con la giusta concentrazione alla gara e stare uniti. Solo così potremo fare i nostri, i tre punti. E quindi tutto è possibile.